Sopra il luogo del sindaco Domenico Messinese alla villa Garibaldi del centro storico di Gela con contestuali accertamenti della polizia municipale sui giochi per bambini collocati dal gestore del chiosco al quale i vigili urbani hanno contestato varie irregolarità. I giochi non sarebbero risultati sicuri e inoltre non tutto sarebbe regola per quanto riguarda alcuni impianti elettrici e servizi igienici. A sollecitare l'intervento dei vigili urbani era stato lo stesso primo cittadino. Parco giochi che di fatto è in custodia colui che ha una gestione da parte della villa. Questo è un controllo che ho voluto fare personalmente anche perché è stato mandato alla GELAS di verificare tutti i parchi gioco della città e di intervenire per poter ripristinare se ci sono qualche piccola carenza e in ogni caso se vi sono delle criticità di provvedere immediatamente o comunque in ogni caso di metterla in sicurezza. È stata proprio una direttiva ben precisa di provvedere a una manutenzione periodica e soprattutto di avvolersi di ditte specializzate per poter fare gli interventi. Questo riguarda tutti i parchi che sono ancora sotto la gestione diretta del comune. La GELAS ha già avviato a fare, ha compresato di fare tutti i sopralluoghi e a breve interverrà per migliorare i parchi esistenti e a quanto pare dovremmo riuscire anche a migliorare un pochettino la situazione attuale. Questo vuol dire non fare spot ma programmare le cose in modo corretto per garantire quello che è giusto, ovvero sia la tutela dei nostri piccoli. Grazie.